Sì, guarda che non metti il teleo portato, anche di venerdì si vola qua. Sì, guarda, guarda, guarda. Sì, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Io sono messo un'area da un'altra parte di destra e adesso hai messo il punto. E quello di fondo là chi è? L'aeropranino là di fondo. Grazie.